Sono già due ore dietro, che siamo in collegamento con voi, salvo l'intervallo di un'ora tra la prima parte della gara e la successiva e il nostro timore è che il satellite a un certo punto non vi consenta di avere tutte le immagini, pure sempre ridotti della pista, comunque siamo tagliati fuori da ogni comune Intanto vedete che Lauda ha scavalcato Pironi, mette anche Civer, adesso stacca Pironi ma senza esito, doppio stacco di Civer ma non riesce a scavalcare Pironi Pironi cerca comunque di riaggredire Lauda